ragazzi video per youtube ragazzi buonanotte come mangiano ragazzi davvero abbiamo trovato il branco no ragazzi davvero ho toccato una canna da pesca dovevi davvero portarla sono qua al lago maggiore volevamo anticipare io e luca che domenica uscirà un nuovo video sul carp fishing e probabilmente anche domani a carpe piccole e anche a pesci dati nostrani vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo domenica col video ciao ragazzi